A partire da oggi è chiusa la discarica di Siculiana. A comunicarlo è stata la Catanzaro Costruzioni, proprietaria dell'impianto, che accoglie i rifiuti di tanti comuni della provincia. Il problema è legato alla capacità produttiva dell'impianto provvisorio di biostabilizzazione, uno dei pochi attivi nelle discariche dell'isola, che è arrivata al limite. Ad accertarlo sono stati controlli effettuati dalla stessa impresa, chiamata dalla regione a monitorare costantemente la capacità dell'impianto. La chiusura dello stesso si è resa necessaria a scopo precauzionale per prevenire e ridurre ogni forma di possibile inquinamento. La società ha dichiarato che a giorni comunicherà la data in cui sarà possibile tornare ad utilizzare l'impianto di biostabilizzazione e dunque riprendere anche l'attività di smaltimento dei rifiuti. Si profilano problemi per i comuni che fanno riferimento alla struttura di Siculiana, ma anche per quelli come Sciacca e gli altri centri dell'ex auto Agrigento 1 che dispongono di una propria discarica. In quella di Contrada Saraceno Salinella, infatti, si effettua il trattamento di tritovagliatura che consente poi lo smaltimento di parte dei rifiuti, ma non essendo dotata la struttura dell'impianto di biostabilizzazione, un'altra parte della spazzatura deve essere portata a Siculiana per essere trattata con questo sistema e poi smaltita. Eppure la Regione aveva dichiarato di volere investire sulla discarica di Sciacca, una delle poche pubbliche dell'isola. Dopo oltre un anno di chiusura dalla realizzazione dei lavori di ampliamento della vasca, era stato annunciato l'investimento sull'impianto di tritovagliatura, già realizzato e in funzione, ma anche sull'impianto di biostabilizzazione dei rifiuti, per il quale invece si attende ancora il finanziamento.